Gentili amici, siamo a casa della signora Gina, 90 anni ormai alle porte tra un mese e si sta preparando per il giro d'Italia degli anziani in bicicletta. Chiediamo alla signora Gina se questo allenamento è abbastanza duro, come riesce a coordinare i lavori di casa, famiglia a questa età e anche pedalare. Pedalo volentieri più che lavare i piatti. Ho capito signora, ma però alla sua età lei ha ancora questa forza nelle gambe di pedalare per una competizione così lunga? Ginnastica e ciclette. Qual è il suo segreto signora per arrivare a questa età? Diciamolo ai nostri amici. Allegria e felicità. Grazie signora, le auguriamo una buona competizione e che arrivi tra i primi a questo grande giro d'Italia per anziani. Grazie a lei e un bacio.